Saluto tutti i presenti e ringrazio in modo particolare gli amici Damiano e Enzo. Li voglio ringraziare con le parole che ci consegnò l'ultima volta che è venuto a Mesagne Beppe Barra. Nel teatro comunale, quando ci disse, chissà dove è nato sa dove andare. Con questo senso, con questo significato, che diventa anche auspicio. Mi auguro che il libro sia letto da tanti, soprattutto dai giovani, per il contributo, per l'aiuto che ci offre, anche proprio a capire da dove veniamo. Io non faccio una presentazione classica. Trago dal libro alcuni spunti e li trasformo, li traduco, in brevissime, essenziali, considerazioni problematiche. Perché mi hanno posto delle domande, il libro mi ha fatto delle domande, che io porgo, le ho tratte. Certamente ognuno ha la sensibilità sua, il suo retroterra, e quindi coglie qualche cosa e non coglie altro. La prima di queste questioni, insomma, che dico problematiche. Si parla nel libro di una divaricazione che avviene, ai primi già del Novecento, fra il mondo degli artigiani e il mondo contadino. Ma questa la lascerei perdere. Non ci sarebbe anche il tempo, insomma, devo stare nei minuti. Ce n'è una seconda che prendo un attimo in considerazione. Ed è la questione della divaricazione tra l'associazionismo di ispirazione socialista e l'associazionismo cattolico. Due mondi separati, due mondi lontani. Qual è il problema? Qual è la domanda? Con riferimento a Mesagno, ovviamente, perché stiamo parlando della nostra realtà. Ma di quale divaricazione possiamo parlare noi a Mesagno? Perché ci sono, perlomeno in questo momento, o per le mie poche conoscenze, elementi piuttosto contraddittori per questa fase. Da una parte si sa che a Mesagno, insieme all'Unione dei Lavoratori, nasce, era nata prima, una società, la società agricola, che si chiama Cattolica. Poi, con una sua fisionomia. Poi, nel 1902, nasce una società operaia cattolica. Veramente, stando all'archivio dell'opera dei congressi, questa società operaia cattolica viene chiamata Cassa Rurale. Cassa Rurale, operaia e di Previdenza. Io non so bene di che si tratta. Quindi, da una parte ci sono queste indicazioni. Dall'altra, sappiamo che ci troviamo in una fase, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in cui il movimento cattolico organizzato, quello che si chiama l'opera dei congressi, subisce una frattura profonda. Da una parte ci sono gli intransigenti, capeggiati da Paganuzzi, dall'altra ci sono, c'è la corrente democratico-cristiana, che non c'entra niente con il partito della democrazia cristiana, che sorge durante il 1942-1943. Sono due cose completamente diverse. Legato a Romolo Murri e a Luigi Sturz. Ora, questa corrente, all'interno dell'opera, sviluppa tutta un'azione interessante, tutta tesa a realizzare una promozione tale da favorire l'emancipazione del mondo contadino, in modo particolare. E qui, se pensiamo a tutto quello che succede alla fine dell'Ottocento, quando Sturz in Sicilia fa le leghe, le cooperative contro i gabellotti, eccetera, a me pare che di tutto questo non arrivi nulla. Cioè di questo conflitto. A differenza di alcune città vicine. A Mesagne nasce l'opera dei congressi. E nasce nel 1897. Chi è il presidente? Il presidente si chiama Giuseppe Martucci Clavica, che è, come viene riportato benissimo dal libro, è amministratore della nostra città nella giunta guidata da Silvio Murri. Costui è presidente del comitato dell'opera dei congressi, cioè del comitato del Movimento Cattolico. Leggendo il libro si capisce chi è questo personaggio, chi è questa persona. Costui, due anni prima, nel 1895, aveva scritto una lettera al presidente del comitato nazionale dell'opera dei congressi, che era il conte Paganuzzi. E che cosa aveva chiesto al presidente? Aveva detto che, diciamo, questa documentazione è riportata da studi fatti soprattutto dall'Università di Bari, da studiosi dell'Università di Bari, sugli archivi dell'opera dei congressi. Sono pubblicati. Che cosa chiedeva il nostro Giuseppe Martucci Clavica al presidente dell'opera dei congressi? Chiedeva di potergli fornire qualche nome di grande commerciante o altro, perché lui a Mesagna voleva fare il grossista. Il grossista di zucchero, di riso, eccetera. Paganuzzi non gli rispose mai, non gli rispose mai a due lettere che lui scrisse. Ce lo ritroviamo presidente del comitato nel 1897 e come presidente del comitato scrive ancora una volta al presidente nazionale per dire noi faremo subito qui questo comitato, nella chiesa di matri, eccetera, però fammi capire che cos'è questo comitato che facciamo dell'opera dei congressi. Mandami lo statuto, mandami il regolamento. Ora, poi la cosa finisce presto, perché arrivano le circolari di Rodinì, arrivano i fatti del 98, il comitato sparisce, quello di Brinzi, quello di Mesagna, eccetera. Qual è il punto? Questa divaricazione è la divaricazione tra un movimento associativo di ispirazione socialista con un movimento cattolico che pur non ispirandosi alla corrente democratico cristiana dell'opera dei congressi comunque cerca di operare all'interno di quel filone o è una divaricazione tra l'associazionismo di ispirazione socialista e un movimento cattolico ancora strettamente intransigente e a figure anche di sacerdoti tipici del sud di cui aveva così abbondantemente e chiaramente parlato Luigi Sturse il famoso convegno di Bologna del 1902. A me, io non saprei dare risposte precise, ho l'impressione che si sia trattato più di una divaricazione tra due modi molto diversi perché di affrontare la questione rispetto a questi due mondi. Perché tutto quello che andava facendo la corrente sturziana era su un terreno sostanzialmente comune per quanto riguarda il tentativo di aiutare i contadini ad uscire da questa soggezione, a renderli autonomi, ad emanciparli, a renderli liberi. Seconda questione che pongo l'unione e il fascismo a Mesagli. Il libro ne parla. Abbiamo a che fare con elementi classici. Perché è importante la vicenda dell'unione rispetto al fascismo? È un esempio chiarissimo, eloquente. È una verifica nello stesso tempo di come si è mosso e cresciuto il fascismo. Il primo grande obiettivo era quello di distruggere i soggetti sociali. Quei soggetti sociali che liberamente, autonomamente soprattutto rappresentanti dei ceti popolari si erano formati e davano segni di autonomia, di vivacità di porsi dialetticamente in rapporto ai ceti dominanti, all'elite dominanti. Questo avviene chiaramente. La parabola dell'unione dei lavoratori è un esempio chiarissimo di quello che accade anche altrua e di come si realizza. Certo, accanto a questo poi c'è tutto quello che c'è di contorno. Ma è spiegato sul libro, non voglio ripeterlo, insomma. Non è di questo che mi interessa parlare. C'è tutto il problema della violenza, gli esempi che sono riportati, c'è tutta la questione del tentativo di conquistare il mondo del lavoro. Il manifesto riportato è interessantissimo. anche qui conquistare il mondo del lavoro attraverso i magazzini messi su dagli agrari, c'è il sindacato fascista per cui uno per poter lavorare deve iscriversi lì. C'è tutto il problema del 1922-23 di Mesagne quando gli agrari cacciano via dai loro campi, non fanno più lavorare quei contadini che non siano iscritti al sindacato fascista. Certo, sono anni in cui è difficile capire che cos'era il fascismo. Si rivolgeva, nel manifesto per esempio riportato qui a Mesagne, si rivolgeva ai cittadini, prima di tutto, e poi si rivolgeva ai lavoratori, sostanzialmente dicendo loro guardate che i socialisti vi hanno riempito di ghiaccere, di illusioni, chi veramente vi rappresenta siamo noi e vedrete come le vostre condizioni miglioreranno e subito. La tradizione orale vuole che il primo nucleo del movimento fascista a Mesagne si sia creato nel 1920 in casa di un artigiano dove si raccolsero sette o otto persone. Certamente nel 1921 era abbastanza presente, già, nel 1922 si formano ufficialmente le sezioni e sono anni in cui gli episodi di violenza sono stati ricordati prima accadono ripetutamente. Accadono nel 1921 anche quando viene c'è un famoso comizio di Chimienti dove ci sono tumulti intervengono i fratelli Crovagia ci sono poi fatti del 1922 la start della sezione ci sono i fatti del 1924 certamente ci sono i fatti del 1925 che non appartengono molto alla nostra memoria in occasione di un comizio importante organizzato a Lecce dalla federazione provinciale del partito fascista in quell'occasione parte da Mesagne un gruppo consistente di militanti fascisti. i quali pare che ne abbiano veramente combinate di tutti i colori protagonisti di episodi di violenza tant'è vero che il segretario del partito fascista della federazione provinciale scrive una lettera a Mesagne per se ma insomma chi sono questi che cosa sta succedendo com'è che sono incontrollabili è una vicenda che continua e certamente a questa presenza del partito nazionale fascista c'è una opposizione significativa ora che rapporto c'è stato tra questo partito e la cittadinanza di Mesagne qualche cosa credo che si possa dire io anche per qualche ricordo della mia adolescenza avendo parlato con alcuni parenti anziani miei penso di dire che il partito fascista il partito nazionale fascista locale fosse un partito prima di tutto molto diviso aveva anime diverse che gli agrari che ne facevano parte erano in conflitto fra di loro e spesso utilizzavano i contadini quelli dell'unione che lavoravano da loro per risolvere i loro problemi interno che la cittadinanza largamente sia stata estranea e che abbia vissuto un rifiuto interiore tranne quello sparuto gruppo che conosciamo che è stato capace anche di una opposizione durissima e che ha pagato in modo duro ultima cosa due minuti che voglio dire è che un ultimo elemento un'ultima questione problematica questi anni l'unione è il patriottismo a Mesagne a Mesagne subito dopo la prima guerra mondiale ci sono grandi manifestazioni patriottiche a cominciare dal dicembre del 1918 tantissimo si forma subito una sezione nazionalista e si forma subito una sezione combattenti guidata dall'avvocato Felice Profilo queste operano molto nella città e diciamo fanno una grande propaganda proprio sono pieni di fervore queste sezioni e indottrinano insomma come dire o comunque cercano di veicolare questa idea della grandezza della patria l'eroismo eccetera tutto quello che sappiamo ci sono alcune iniziative che sono importanti io vorrei ricordare solo una quella del 1921 per capire anche meglio il contesto 1921 avviene la inaugurazione della lapide del cimitero quella dedicata ai caduti della prima guerra mondiale è una manifestazione imponente come viene riportato dalle cronache dei giornali dell'epoca della Puglia una manifestazione imponente e all'interno prima di questa manifestazione immediatamente prima avvengono due cose proprio che lasciano da pensare la prima allora c'è il commissario prefettizio a preparare questo evento il 4 novembre si scopre la lapide del cimitero era stato chiamato a far parte del comitato che doveva preparare i festeggiamenti l'ingegnere Pietro Semeraro che era uno un socio della cooperativa l'ingegnere Semeraro scrive al commissario prefettizio e dice la ringrazio ma le chiedo scusa io non posso partecipare a questo comitato che prepara i festeggiamenti del 4 novembre non posso partecipare perché io sono un uomo di partito e ne ho parlato con i miei compagni di partito perché era iscritto alla sezione socialista di Mesagne e il partito mi ha detto che io non devo far parte e poiché sono un uomo di partito io obbedisco alla disciplina di partito e quindi mi dispiace non posso venire il commissario prefettizio risponde con una lettera durissima nei confronti dell'ingegnere Semeraro il giorno dopo arriva dalla sottoprefettura di Brindisi una comunicazione al commissario prefettizio di Mesagne in cui si dice sostanzialmente si raccomanda per la manifestazione sobrietà erano giunte a Brindisi a Lecce le voci di un qualcosa talmente grande che aveva preoccupato le autorità amministrative rappresentanti del governo ma chi era il presidente poi del comitato il commissario il commissario prefettizio stando alle carte che stanno mi ha fatto vedere la dottoressa Caliano anche in questi giorni ora io diciamo all'interno di questo discorso poi ci sono altre cose che succedono dopo quando arrivano le zolle del del Piave a Mesagne nel 1925 insomma tutto quello che serve eccetera ma all'interno di questo chiudo dicendo questo che certamente questa idea forte della patria della nazione a Mesagne viene veicolata e diciamo dal documento che ho letto dal libro che hanno riportato loro proprio quel discorso che fa l'avvocato mi pare che sia avvocato Profilo Annibale Profilo si chiama il medico il medico il discorso che fa Annibale Profilo nella nella seduta di consiglio di consiglio comunale del 1924 ci fa capire come come dire come il termometro emotivo intorno alla patria fosse vivo anche se intriso di retorica in quell'occasione Annibale Profilo il medico è chiaro e recupera tutto un discorso che sulla patria aveva anche origini lontane lui dice sostanzialmente che la patria per evitare di di sbagliare la patria è istinto la patria è voce dell'istinto è legame dei padri con i figli istinto una concezione veramente chiaramente biopolitica della patria e della nazione che ha decisamente il sopravvento e che sostanzialmente identifica il discorso sulla patria e su cui noi non riusciamo ancora a fare una certa riflessione critica io nell'augurare ancora a quanto è più gente possibile di poterlo reggere giudo ricordando una espressione che aveva usato che ha usato anzi il titolo di un libro il più giovane sindaco di il più giovane sindaco d'Italia del secondo dopoguerra si chiamava Rocco Scodellaro scrisse un libretto un libro un romanzo autobiografico bellissimo un romanzo autobiografico che insomma struggente si chiamava si chiama insomma tanti l'hanno letto l'uva puttarella si tratta della nostra difficoltà a crescere gli acini di quest'uva della nostra difficoltà ad emanciparci della nostra difficoltà ad assumerci delle responsabilità io penso che questa storia che i nostri amici ci hanno consegnato ci aiuti a capire come questa sfida di andare oltre quest'uva sia stata aperta abbondantemente accolta avviata aperta abbondantemente nella nostra città con tutti i limiti che hanno le persone e con tutti i limiti che hanno le strutture grazie